Prima fila per l'uno di Unique Griff, Giampaolo Minucci, il 2 Uragano FKS Antonio Improda, il 3 Umberti Teban, Antonio Storti, il 4 Ultimus con Davide Di Stefano in sostituzione di Francesca Croce, il 5 Unions Club con Roberto Vecchione, il 6 Ugolino R Enrico Bellei, completa la prima fila del 7 di Upo Pascò con Paolo Pietro Paoli, da solo invece in seconda fila con il numero 8 c'è Unemotional Griff con Antonio Di Nardo e allineamento che si va a completare quando mancano ora. Poco più di 100 metri allo stacco, rinuncia al lancio Upo Pascò, dal centro dello schieramento cerca di emergere il Unions Club nei confronti di Ultimus Ultimus poi che reagisce all'interno, poi c'è Umberti Teban, Ultimus rientra a Unions Club che però cerca posto nella sua scia e dovrebbe trovarlo scavalcando Umberti Teban, rimane invece all'esterno il favorito Ugo Lino R e c'è l'errore di Uragano FKS. primo quarto che va via in un discreto 29-3, attacco di Ugo Lino R che però sbaglia improvvisamente, c'è la squalifica per Ugo Lino R e allora Ultimus è libero di comandare nei confronti di Unions Club, i 600 del leader vanno via in un veloce 44 e mezzo, Unions Club rimane a qualche lunghezza da Ultimus precedendo Umberti Teban, poi ancora Unemotional Griff a precedere Unique Griff, fuori corsa agli altri, continua a porre andatura molto sostenuta, Ultimus cerca di ricucire Unions Club, c'è De Umberti Teban aggirata da Unemotional Griff e poi anche da Unique Griff, nel frattempo il chilometro va via in 1-15-2 da parte di Ultimus mentre si muove all'esterno bene Unemotional Griff che aggira Unions Club e guadagna la scia del leader, è imitato nell'azione da Unique Griff, nel frattempo il leader completa i 1-12 in 1-29-6 ed è inseguito da Unemotional Griff e da Unique Griff mentre cala Unions Club, retta d'arrivo che vede Ultimus in vantaggio, inseguito da Unemotional Griff e Unique Griff che sembra forse anche più incisivo all'esterno ma Ultimus è ancora in chiaro vantaggio, si ripropone bene anche Unemotional Griff in anticipo su Unique Griff e ora è Unemotional Griff che va all'attacco di Ultimus, quest'ultimo è ancora in vantaggio si difende da Unemotional Griff sul palo, Ultimus si salva da Unemotional Griff che precede Unique Griff e dunque da un capo all'altro Ultimus con Davide Di Stefano il numero 4 davanti all'8 di Unemotional Griff l'1 di Unique Griff, questo l'arrivo ufficioso naturalmente della seconda di Capannelle, 2-1-2 sul mio cronometro che significa media di 1-15-7 per il vincitore Ultimus con Davide Di Stefano da un capo all'altro respingendo l'attacco finale di Unemotional Griff con Unique Griff al terzo posto 4-8-1 l'arrivo ufficioso della seconda di Capannelle Grazie a tutti